La giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate ricordata a scuola è l'iniziativa che si svolta oggi nell'aula magna dell'Istituto Ettore Romagnoli di Gela presenti gli studenti delle classi terze interessante il dibattito al fine di ricordare la vittoria italiana nella prima guerra mondiale La scuola secondaria Ettore Romagnoli è una scuola pubblica e come tale rientra nelle agenzie formative, formali insieme a quelle non formali che fanno sì che poi si crei il tessuto sociale e il tessuto connettivo di un paese Celebrare Forze Armate per noi significa suggellare un rapporto privilegiato un rapporto privilegiato con il corpo di polizia, con il corpo dei carabinieri con quanti difendono lo Stato, con quanti nel passato in momenti estremamente duri e difficili come sono stati i conflitti mondiali hanno difeso il paese con quanti ogni giorno affrontano l'emergenza dei migranti per mare salvando vite umane proprio stanotte la notizia di un'ulteriore strage 250 morti nelle canali di Sicilia noi sappiamo che le forze dello Stato intervengono nonostante l'indifferenza europea, l'indifferenza collettiva ecco per noi come scuola romagnoli parlare delle forze armate, celebrare loro significa dire noi ci siamo, noi siamo con voi noi saremo sempre al loro fianco In bella mostra nell'Aulamagna anche un fucile legalmente detenuto dallo storico Nuccio Mulè appartiene innanzitutto al 1891 perché è il classico fucile emblema della prima guerra mondiale utilizzato dai militari del reggio esercito durante la guerra di Trincea poi l'ho portato perché c'è questa bella manifestazione organizzata dalla preside della Romagnoli con l'intervento di Ambra Vera una scrittrice che si occupa di questa tematica della prima guerra mondiale che ha realizzato un libro su un nostro eroe da maggio Fischetti Come le è venuta l'idea di scrivere un libro dedicato interamente ad un eroe giorese? È capitato per caso incontrare questa figura e innamorarmene e ritengo che sia un personaggio che vale la pena conoscere E perché avete presentato il libro proprio il 4 novembre il giorno delle forze armate? Oltre che ad essere il giorno delle forze armate è anche il giorno in cui si celebra la vittoria della prima guerra mondiale e quindi è doveroso ricordare anche questa data e soprattutto qui a Giela con Damaggio Per me è stato bello e interessante perché ho fatto una ricerca di immagini storica e l'idea di mettere una storia così importante attraverso le immagini e renderla più fluibile magari ai ragazzi a gente che ne capisce un pochettino di meno penso sia una cosa interessante per me è stato Grazie.